ciao a tutti benvenuti sul balcone e il tema di oggi sapete quale? fine prodotti e sono tantissimi 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 fine prodotti del mese di maggio iniziamo subito a random e allora vorrei tanto subito avere tutte le scatolone sono finiti ovviamente tradizionalmente i nostri due proteine buonissimi li prendiamo e li acquistiamo sempre e due shake una valina e una alla fragola adesso dovranno arrivare altri che sarebbe il terzo e il quarto è già gratuito oggi ho fatto l'ordine gratuito il quarto non l'ho pagato ho ricevuto i punti fantastico poi sono finiti due vitamine anche queste finiscono sempre eccole qua due pacchi uno di eugenio e uno mio buonissimi buonissimi stanno finendo in realtà stanno finendo altri due manca una settimana ma li rivedremo nella prossima volta finito questa spray un cleansing gel che è un tonico 2 in 1 della Novage che è anche compresa nel set questa è la sua scatola se l'ho ordinata a parte buonissimi buona si mi piace ma mi piace più forse l'olio della Novage con quello nuovo che sarà in offerta è in offerta proprio sul catalogo numero 8 però assolutamente l'ho acquisto perché l'ho acquisto nel set quindi lo uso volentieri un'altra cosa che è finita la novità è la maschera alla banana che mi è piaciuta tantissimo ho un profumo veramente buono se l'ho acquisto si l'ho riacquistata un'altra un profumo di banana veramente sembra che vi imbregete proprio nella in un sacco di banane carina basta per tre volte per i miei capelli comunque ottima ottima anche l'uso il suo ottimo comunque adatta al per i capelli secchi finita anche finalmente finita che sta schiuma da barba della North Ormers aloe vera sensitiva per la pelle sensibile piaciuta si durata 3 4 mesi penso non ricordo quando mi è arrivata l'abbiamo aperta io vi consiglio di acquistare la schiuma da barba per uomo perché è veramente fantastica poi questa mi è piaciuta veramente tanto perché mi proteggeva non ho mai avuto un'incarnazione di pelo non ho mai avuto veramente neanche la lametta mi andava benissimo non so perché queste schiume da barba a me vanno benissimo ma costano veramente poco in offerta li potete trovare veramente adesso questo qua in offerta sarà forse nell'otto probabilmente forse o sensitivo un altro e li potete acquistare tranquillamente perché veramente costano veramente 2 euro 50 una cosa del genere poi finita la mia terza confezione della Vilness Heart in Nile Nutri Complex in allora questa è la seconda in realtà ma la terza la sto già finendo mi manca solo una settimana perciò io ho fatto due mesi in realtà di questo prodotto ho ancora un mese da finire se vedo risultati si li vedo risultati o facendo con le mani così io sento già i capelli piccoli ormai sono già cresciuti tantissimi 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 li sentivo prima mi sembrava strana questa cosa poi invece no cresce tantissimo le mie unghie come vedete ben vedete stanno benissimo stanno crescendo mi piace tantissimo il prodotto se lo ripeterò sì però farò la pausa di almeno tre mesi estivi e poi li prendo comunque non mi danno nessun fastidio in gola niente mi sono piaciuti tanto quando vanno in offerta sono comodissime perché tra l'altro in offerta vanno nel catalogo numero 9 quindi attenzione se li volete in offerta acquistatevi subito non una confezione ma ben tutta la confezione per tutto il periodo che li dovete prendere perché vi costerà meno finito questo sapone della essence in co buonissimo con olio essenziale comunque era in super offerta l'avevo acquistato mi è piaciuto tantissimo è verde e poi veramente piacevole uno dei migliori saponi che mi piacciono finita la crema milk honey molto buona questa crema questa crema in realtà proprio latte e miele e comunque attenzione perché se siete alerici al miele o al latte sulla pelle in realtà non in interno perché non la mangiate attenzione perché ci sono gli organici estratti organici quindi se siete alerici al miele giusto perché sulla pelle o al latte questo contiene pezzi organici molto buona era in promozione per prezzo di consegna piaciuta piaciuta sta finendo in realtà pochissima rimasta veramente guardate mi è piaciuta tantissimo a tutti questa discovery la california in beach mi è piaciuta tanto la sua freschezza la sua veramente cosa salina tropicale molto secondo me per l'estate è bellissimo non che la riordinerò assolutamente perché non mi dispiaciuta affatto finita la lacca che era in super offerta la vecchia collezione con la cheratina 4 volum post piace sempre queste lacche e sicuramente li acquistiamo sempre finito il shampoo milk honey anche questo lo stesso discorso della crema estrati organici buonissima questo shampoo nonché abbiamo ordinato pure due confezioni che gli stiamo aggiornando una veramente fantastica questa consistenza sembra miele ma veramente riamorbidisce il capello mi è piaciuta tantissimo è stato rinnovato e era già buono con il shampoo ma è stato rinnovato e diventato migliore migliore fantastico e poi basta basta per tanti due mesi sicuro poi ovviamente per i miei capelli se avete i vostri capelli diversi non lo so comunque consigliatissimo non ho provato balsamo per questo ma sicuramente quando saranno in offerte lo proverò finita un'altra maschera per tutti i tipi di capelle al gusto di vedete voi avocado buona sì forse mi è piaciuta più quella la banana nonostante l'odore di questa maschera è proprio come la crema dell'avocado della love nature queste confezioni qua che vedete della love nature sono biodegradabili quindi sono molto importante anche per l'ambiente se fate questa scelta di utilizzare i prodotti biodegradabili questa è una buona scelta perché è un ottimo prodotto con estratti naturali e le condizioni biodegradabili sono finiti un mascherine sempre della love nature anche questi al cetriolo buonissimi rifrescanti e sono idratati assolutamente stra-idratano la vostra pelle possono piacere buonissime però che sono proprio di cetriolo consigliato? sì possono veramente 40 cm di una cosa del genere intimo finito intimo aloe vera e malva uno che mi piace anche questo mi è piaciuto se c'è questa mosca che gira non mi dispiace assolutamente non che non mi piaceva il vecchio aloe vera quello geloso in realtà non è che mi piaceva questo mi è piaciuto tanto perché comunque è più cremosa della di prima non so se si vede comunque è verde molto bella la posizione molto molto comoda finita anche io non so cosa ho dentro ma c'è qualcosa che boh sarà un prodotto seccato devo cambiare il sacchetto in realtà finita questa scrub per i piedi per usarlo sotto la doccia è piaciuto? sì mi è piaciuto lo riordinerò perché comunque non mi è dispiaciuto affatto il suo uso lo facevo una volta alla settimana mi è bastato per tantissimo tempo poi i vostri piedi in realtà erano veramente morbidi e perché contiene la crema oltre che scrub e poi io penso che scrub serve sempre una volta alla settimana serve perciò consigliatissimo non ho idea per l'offerta di questo prodotto non in 8 ma sicuramente nelle nuove li troverete sicuramente in offerta consigliatissimo finito questo che tra l'altro è anche fine a produzione lo potete trovare solamente nel cataloghino sotto l'offerta è della linea version perfecter pore in linee tutte le linee diciamo tutti i vostri bucchi sul viso o magari il viso lucido vi protegge è un po' come come si chiama il papa boa una base prima di prima tonale comunque veramente buono buono vi rende la pelle morbidissima opaca mi piaciuto perché vi toglie tutta quella lucidità dal viso piaciutantissimo peccato che l'hanno tolto dalla produzione comunque li potete ancora trovare in super offerta il suo codice vi dirò è 33 944 sicuramente nel catalogo 7 e nel catalogo 8 o 7 era in super offerta quindi guardatelo li potete trovare ottimo finita la siero ecco la game vehicle power la seconda immaginata piace tantissimo questa linea veramente mi è piaciuta tantissimo questa serie questo set di link power finché stamattina sono andato a ordinarlo non c'era non c'era in magazzino ma sicuramente ci sarà quindi la tende per fare un altro ordine perché mi serve assolutamente nonché ho già due in ordine per i miei amici che mi hanno chiesto sono fantastici questo set di collagen mi è piaciuto uno dei migliori che mi è piaciuto per ora in questa stagione a me piace di più di questo insieme a lui finita anche la crema notturna e la crema no sono due creme notturne sì ragazzi è vero due set usato tra l'altro finito due l'altra volta finito questa stavolta finito due creme notturne perché la metto come maschera in realtà ecco perché non in un mese in realtà queste sono allora uno in un mese e l'altro in quasi due mesi stava per finire ma non l'ho fatto vedere nella sforza volta è piaciuto sì perché comunque anche facendo la maschera guardate che veramente la mia pelle mi sta ringraziando per questo fantastici piaciuto tantissimo quella da giorno è molto più protettiva infatti la vedete molto bianca ma poi vedrete che si assorbe e sta benissimo non ribadisco mi piace tantissimo allora questo qua la mettevo col penello per quello che finiva ma lo mettevo anche sul decolleté e il collo attenzione queste creme sono date anche per la decolleté e collo perché non è che vi potete mettere la crema sul viso e dimenticarvi di resto quindi usatela non tenetevela per 3 4 mesi un set basta per un mese e sicuramente basta assolutamente per tutti per tutto il mese finita questa bagno schiuma bread pit petals bellissima mi è piaciuto anche la sua crema a mani che l'abbiamo vista l'altra volta infine i prodotti assolutamente buona di floreale sembra che venite primavera comunque è una offerta anche sul catalogo numero 8 quindi se volete acquistatele è una crema è una veramente crema rosa da lavarsi è dura tantissimo poi veramente fa una schiuma bellissima e dura tanto finita anche della novità shampoo e bagno schiuma ovviamente non l'ho usato come shampoo colore trasparente di questo prodotto comunque ottimo secondo me è anche comodissimo per portarselo in palestra molto comodo consigliatissimo sì consigliato sarà in offerta nel prossimo catalogo e duramente costava poco finito di odorante della comunque uno dei miei migliori secondo me della fresh della active fresh buono sì buonissimo basta tantissimo costa veramente poco io l'ho visto sempre in offerta nonché l'ho già ordinato nel catalogo 7 mi dovrei arrivare perché in realtà adesso sto usando l'ho di durante come quell'acqua della non for man power che ce l'ho in bagno ottimo 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 prodotto consigliatissimo vorrei provare anche della stessa linea lo spray che sicuramente lo proverò finite finita anche la optifresh autosistemi quella le erbe ribadisco una delle mie migliori sto usando adesso quella sbiancante in realtà così così questa mi piace una che mi piace molto di più l'acquisterò sì l'aria acquisterò sempre forse farò una scorta di queste perché comunque non è sempre in offerta non ha sempre un buon prezzo e poi è una delle più care di tre quindi consigliatissimo e poi tra l'altro con quella lì non avevo problemi di gengive questo è importante finita la maschera della Swedish Spam la maschera per le mani buonissima mi è piaciuta tantissimo finita completamente l'ultima volta ha una consistenza molto spessa quando la mettete subito per dieci minuti vi sembra di appiccicosa quindi non toccate niente perché sennò sarà tutto appiccicoso ma vedrete che fra dieci minuti la vostra pelle diventerà liscia 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 consigliata a mettere prima di andare a dormire assolutamente sì straconsigliata e poi fa un effetto wow l'effetto di questa maschera per le mani wow se avete i guanti mettete i guanti ancora di più vi consiglio ancora di più finita anche questa crema con tornocchi sempre del Sede Collagen finita una in realtà perché comunque non serve tanto per tornocchi la crema questo è durato due mesi in realtà tantissimo sempre insieme a questo set con la crema e il fiero fantastico come al solito a me piace questo set ho già iniziato la nuova di crema con tornocchi quindi sono contentissimo finito questo nuovo bollo prodotto della Novege che è stato uscito proprio adesso ho il Balance Solution wow non ho niente da dire fantastico proprio come permette questo prodotto per 30 giorni vedrete il risultato sì la mia pelle non ho mai più avuto problemi né di bruffoli né di pelle grassa né di pelle fantastico questo prodotto anche i pori si sono richiusi molto di più io adesso sto usando prima del Sede Collagen sto usando tutta linea nuova perciò un correttore Oil Balance Solution e anche un emulsio la emulsione la sto usando che mi piace mi piace il profumo di caffè veramente fantastico poi vi dirò qualcos'altro sui altri prodotti di questa linea comunque è un gel che è veramente straordinario straordinario mi è piaciuto tantissimo questo se siete registrati nel catalogo 7 avete fatto il primo ordine di 25 euro scantati 23% lo avrete in regalo lo potete scegliere a 1 euro provatelo 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 allora mi è finito da un po' anche questa è una crema contorno occhi mi è finita prima questa poi la Collagen della Breath Sublime quella contro contro le macchie allora è un set che mi piace tanto anche questo qua ma lo userò assolutamente in fine estate io l'avevo usato in primavera per togliere un po' di macchie perché avevo un po' di macchie qua ecco l'ho usato e lo uso quando mi serve in realtà questo set non lo uso sempre però è un ottimo set a me piace tantissimo Breath Sublime molto leggero ha un profumo leggerissimo fantastico consigliato? si consigliato se avete le macchie sul viso che volete togliere però ve lo consiglio dopo l'estate in realtà non usatelo adesso perché comunque spesso adesso magari provate le cose molto più leggeri quello si cosa mi è finito? finito anche della Swedish Spa finito questa burro per il corpo buonissimo non ho parole da questo burro la seconda volta che l'ho visto mi piace perché io la pelle è secca comunque se avete la pelle grassa se avete la pelle un po' grassa venite qua vi sembrerà molto pesante come prodotto ma in realtà non è assolutamente pesante poi guardate è enorme è enorme basta tantissimo poi ha un olore di Swedish come tutta la sua serie nonché mi è finito anche lo scrub e l'ho riordinato assolutamente questo scrub fantastico adesso con la doccia purtroppo l'acqua a Milano ha tantissimo da calcare sono 200 ml tra tutte e due prima uso questo e poi uso questo non uso tutti i giorni questo uso solamente quando uso scrub in realtà perché sennò è un po' pesante uso una crema leggera o sennò uso ovviamente la mia crema buonissima della Optimals Body che adesso mi è arrivata e l'ho visto stra usato nonostante che questi li trovi per qualche giorno per rilassarsi ed è sono straordinarie scrub è uno dei migliori scrub del corpo che ho mai provato poi allora e poi ovviamente lo spazzolino della Optifresh buono? sì a me adesso piace più questo più duro dell'altro che più morbido quindi non è male lo consiglio stra consiglio costa pochissimo in realtà bene finiti i miei prodotti di questo mese ne avrò tantissimi prossimo mese vedrete perché già mi stanno a metà e li vedremo tutti tantissimi se vi è piaciuto il video mettete like se siete interessati ad acquistare questi prodotti mi iscrivete sulle miei mail e vi insegnerò come ad averli magari anche a farvi guadagnare qualcosina senza vendere ovviamente non è una cosa cioè vendere è un altro discorso un altro video quindi vi saluto vi ringrazio mettete like condividete il video e ci vediamo al prossimo ciao